Oddio mi sale da fuoco, mi sale da fuoco, nell'acqua. Oddio ho sposo qualcosa. Oh mamma, quando Giulio mi sa che ha fatto... Oddio, ma io prima mi sale da fuoco. Oddio, ma mamma. Quando Giulio sta volta l'hai fatta grossa, io ti consiglio di scappare vivamente e tornare alla riva. Ben ritornati a tutti, pagliacce e pagliacce. Buon ugo a tutti, dato che siamo in argomento. Buon anno a tutti, buon 2019 a tutti. Faccio gli auguri di Natale, Capodanno, Feste, Madonne, Befano e tutto il resto. Casomai dovessi schiattare. Noi ci vediamo più. Auguri a tutti e buon ugo a tutti. Ragazzi, quest'oggi per i nostri protagonisti ancora non è iniziato il Capodanno. Quindi ovviamente vedremo il Capodanno di Ronaldo Junior. Quello vero, quello devastante, quello che piace proprio a voi. Insomma, avete già capito. Per cui andiamo a vedere Ronaldo Junior, che sta facendo, con chi sta. Perché sempre che la giornata di oggi, per Ronaldo Junior, cioè il 31 dicembre, si è una giornata molto particolare. Sono un po' fuori di casa, perché qui è l'Osservatorio Galileo. Siamo usciti da casa perché, ah, c'è Albert che ci ha chiamato e ci ha detto Ronaldo Junior, viene un attimo l'Osservatorio Galileo che dobbiamo parlare. Infatti penso sia lui, eccolo lì. Bene, quindi, ragazzi, per questo episodio del Capodanno dell'Osservatorio di Ronaldo Junior, evitiamo a mettere un basso e un like. Ovviamente, ragazzi, like per Ronaldo Junior sempre. Evito anche a commentare con Ugo, perché so che lo farete, quindi fatelo pure. E magari anche ditemi che cosa vorreste vedere di Ronaldo Junior, che ancora non abbiamo visto. E soprattutto, ricordatevi di seguirmi su Instagram, ragazzi, che trovate sia qui che in descrizione, per poter essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi sapete che è importante, ci tengo anche io, per cui, mi raccomando, fatelo. Ecco, siamo arrivati appunto da Albert, quindi mi raccomando, tutto in descrizione, mi piace. E a fine video vi saluto, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, eh. E in breve Albert sta dicendo a Ronaldo Junior che abbiamo un'omega occasione per passare il Capodanno in una maniera pazzesca. Il pomeriggio, perché la sera dice che deve stare con i suoi genitori. Dice di aver trovato quest'auto, che è mezza rovinata. Cioè, vedete, non ha proprio il parabrezza, avete tutta l'autografia, insomma. Vedete che non è messa nello stato, uno stato decente. È messa in uno stato, praticamente, quasi rotta. Cioè, è rotta, è proprio uno schifo, lo schifo. Cioè, vedete, dietro non ha addirittura il paraurti. Infatti è ammaccata. C'è solo la targa. Che Albert ha detto che non è riuscito a individuare il proprietario. Quindi quello che sta dicendo è, fare casino con quest'auto. Per passare il pomeriggio, intende. Fare casino con quest'auto. Tu, non so se hai capito, ma... Se io dovessi fare casino, mio padre stasera non mi porta a Dubai. Perché stasera dovremmo partire a Dubai. Però io voglio rimanere qua. Quindi, molto probabilmente, papà farà una festa sullo yacht, quello che sarà. Albert dice che facciamo pazzi tutti i giorni. Perché non farei pazzi l'ultimo dell'anno? Che chi fa pazzi a capodanno, le fa tutto l'anno. Ragazzi, il nostro compare qua dice che non siamo abbastanza pazzi. Non riesco anche a guardarlo. Cioè, siamo durani rispetto alla macchina. Che sembra tipo una smart, un abart. Sembra tipo un abart dei giorni nostri. Sì, non si sa bene che algo sia. Bene, ragazzi. Allora, torniamo la radio così Albert possiamo parlare. E sghere, adesso andiamo a fare bordello. Dice Albert che dobbiamo provare a spaccare quest'auto finché non potrà più camminare. Questa cosa non mi piace per niente. Stavo, in ogni caso, dove andare? Attenzione, non fate incidenti. Oddio, ecco, appunto, era proprio questo di cui parlavo. Oddio, un coniglio. Dobbiamo fare presto, ragazzi. Perché comunque poi devo stare a casa. Oh, merda. Ecco, mi ho già spaccato un'auto. Devo stare poi a casa comunque da papà. Cerchiamo di divertirci rapido con il nostro amico. L'ultimo giorno dell'anno. Oh, oddio. Ecco, era proprio questo che intendevo che non dovevate fare. Fare i pazzi. Stai facendo i pazzi. Siete pazzi? Oddio, ragazzi, la macchina è totalmente scofanata. Guardate. Oddio, c'è il... C'è il portabagagli che stava volando praticamente. Cioè, vabbè, in ogni caso, la macchina, penso, sia rotta. Però il giro intangenziale, ragazzi, non ci voleva nessuno. Eh, scusi, scusi, signora. Secondo me ci sarà un reclamo al comune di Los Santos per un pazzo che un'auto ha spaccato tutto. Proprio lui, ragazzi, Ronaldo Junior, sta raggiungendo una velocità pazzesca. Peso che oltre i 240 ai 180 non vada. Infatti, ragazzi, non ce la fanno. Non va oltre i 180. Quella cifra lì non riesce a dare l'auto. Però, ragazzi, sta facendo una velocità pazzesca. E attenzione, muovi, supera la Lamborghini. No, non è vero. Attenzione, attenzione. Ecco, tutto, appunto, lo sapevo. Mamma mia, che trick, Ronaldo Junior. Che trick, che trick. Ecco, questo potevi evitarlo. Perché ora si creerà un casino in autostrada. Ok, ragazzi, siamo andati fuori strada. Sta il portabagagli che praticamente il coso si alza dietro. Vabbè, non va lasciando stare tutto questo. Ronaldo Junior e Albert, stanno impazziti, meno male che hanno le cinture, che li sta proteggendo. Oh, mio Dio! Ecco, è finito divertimento, scommetto. Beh, ragazzi, l'obiettivo era spaccare totalmente la macchina. Direi che, penso che ci siamo riusciti. Oh, mio Dio, ci siamo riusciti. Ah, Ronaldo Junior, attenzione al tipo in moto. Ronaldo Junior, fermati, c'è un tipo in moto lì. No, non prendere avanti. Ecco. Era proprio questo che non dovevi fare. Albert, tutto bene? Ci scusi, signore. Ci scusi. No, no, no. La prego non chiami la polizia. Non era nostra intenzione. Ci scusi, signore. Ci scusi. Albert, no, non dovremmo picchiarlo. Albert sta dicendo che mentre lo distrae dovremmo bruciare la macchina per non lasciare le tracce. Come non lasciare le tracce? Ragazzi, mi sa che non c'è un'altra alternativa. C'è un casino a tutte le macchine che passano. Non sta capendo niente? No, va bene, va bene. Ok, ragazzi. Meno male che mi ero portato un tumolotov. Ronaldo Junior, aspetta che non passa nessuno. No, la prego, signore, non passi. Ok, vai. Dovevo dar fuoco a sta macchina. Due. Ecco, mi hanno messo sotto. Aia, aia, Ronaldo Junior. Oddio, si è fatto male. Oddio. Albert, tutto bene? Oddio. Albert, tutto a posto? Oddio, ragazzi. C'hanno tipo mezzo investiti. Aia, 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 aia. Oddio, abbiamo fatto sia a schiattare l'auto. Ecco, sta arrivando la polizia. Sta arrivando la polizia. Nell'auto non è rimasto praticamente niente. Oddio, sta andando tutto a fuoco. Oddio, che danno. Ok, ragazzi, avete fatto un danno delle madonne. Sta andando a fuoco due persone che sta arrivando la polizia. Albert, dovremmo scappare. Oddio, oddio, pompieri. Oddio, via, via. E' sentata un'altra auto. Questi sono pazzi. Sono pazzi. Papà non deve sapere nulla di sta cosa. Assolutamente. Deve saperne nulla. Non so che dovremmo papare Ronaldo. Chiamiamo papà. Sappiamo come tornare indietro. Siamo tornati a casa, ragazzi. Sono le 18.13. Quindi abbiamo passato il pomeriggio in un modo molto particolare oggi. Ragazzi, ho chiesto a papà di lasciarci al parco. Dato che comunque sono le 18.46. C'è un bel po' di tempo ancora. E insomma, a vedere se troviamo i nostri amici. Albert, ma che stai guardando? Cosa vi dice che erano da giunasci per cacciarsi dei guai un'altra volta che i guai non sono finiti? Ciao ragazzi. Buonasera. Scusi signore. Che state qui? Vi state divertendo? Dovete andare a uno spettacolo? Lo sai che non dovreste fumare qui? Lo sai che non potrebbe starci manco il camion qui? Il signore dice che se abbiamo qualche problema dobbiamo andarcene. Perché se no, se cerchiamo guai... Ci fa un mazzo così. Ci fa un mazzo così. Allora, tu non hai capito con chi stai a parlo. Tu non hai capito con chi stai a parlo. Albert, teneti pronto. Qui stai a parlo con Ronaldo Junior. Due in uno, colpo segreto. Hai capito? Hai capito? E ragazzi, è iniziata una specie di rissa contro i clown. Non si sa per quale motivo. Perché Ronaldo Junior ha detto che non si può parcheggiare qui e perché non si può fuori. Ma che mi creda di essere? Colpo segreto! Ok, i guai non finiscono mai. Non si sa perché Ronaldo Junior si fa piccare sempre in queste situazioni. E tu che ti guardi? Che ti guardi? Via, 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 via. Scappa, fratello. La situazione è che siamo inseguiti alle sette e mezza di sera. Le sette e mezza di sera di Capodanno da un gruppo di clown. Perché ne abbiamo detto che non si può fumare. Perché Ronaldo Junior cerca sempre rogne. Dobbiamo andarci. Sono tornato Junior. Guarda la polizia. Albert, sali. Oddio, non ci credete ragazzi? Che sta facendo? Perché? Albert, puoi salire su sta moto? Ecco. Aia, aia. Ok, è arrivato il poliziotto. Signor poliziotto, aiuto. Signore. Mi stanno picchiando. Mi stanno picchiando. Faccia qualcosa. Eh, scappa. Sta scappando. Cosa? Un poliziotto che scappa? Ma che schifo. Ma che cosa? Ragazzi, Albert vuole fare a botte? Fai a botte, io me ne vado. Ok. Abbiamo arrivato la moto di un poliziotto. Non si sa per quale motivo è scappato il poliziotto. Ragazzi, siamo arrivati a Bespucci Beach. Albert forse è stato, non so, catturato e costretto a lavorare per il circo du soleil con quei pagliacci. Io sono quasi arrivato allo yacht di papà. Se è una moto d'acqua, corri Radio Junior. È la nostra occasione per poter andare sullo yacht e andare a fare anche lì. No, casino no che hai già fatto quel bordello fino a mo'. Ragazzi, stiamo per fare l'entrata in scena di quelle malate. Attenzione. Vado, vado, vado. Vado, che cazzo. Che chiave è successo? Si è spaccato tipo tutto. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo, siamo alla festa che il papà ha dato. Dovrebbe mancare veramente pochissimo. Sono i 56, 57 ragazzi. A breve scatta la mezzanotte. Papà mi ha detto di fare qualcosa di speciale, di pazzo. 3, 2, 1. Auguri a tutti. Non ci credo. Che sta facendo? Oddio. No, Radio Junior, non fanno queste cose. Ti fai spaventare la gente con questi spari. Oddio santo. Oddio papà. No. Casino. Delirio. Buon 2018 a tutti. Buon 2018. Sette. Oddio mi stanno da poco. Stanno da poco. Nell'acqua. Oddio mi sposo qualcosa. Oh mamma. Non giusto che mi sa che ha fatto. Oddio. Ma io prima ma stanno da poco. Oddio. Oh mamma. Ronaldo Junior sta volta l'hai fatta grossa. Io ti consiglio di scappare vivamente e tornare alla riva. La spiaggia perché? Per far di vedere meglio giustamente. Oddio. Quanti sono? Guarda che bordello. Ragazzi, il 2019 di Ronaldo Junior. Devo dire che inizia seriamente. Buon anno anche. Altrettore. Mi è piaciuto ovviamente il video perché l'abbiamo fatto nel 2018 ed era obbligato a rifarlo anche nel 2019. Voglio salutare gli ultimi di voi. Saluto Alessandro2604. Alessandra Foggia. Cacco Sciarra. Dimitar Spinella5. E Andrea Ferr 2011. Questi sono i 5 poverini di oggi che vi ricordo che Ronaldo Junior saluta. Basta anche fate come lui. Mi vedete a seguire su Instagram. Mi basta cercare Chiocciola Rialento. Mi metto a te di piace. Mi seguite perché nelle prossime in i nostri video vi vengo a salutare tutti quanti. Quindi mi raccomando. E adesso per concludere questo 2018 e per iniziare questo 2019 andiamo a farci un giro sulla ruota panoramica. Roto Junior. Mi ha detto di fare qualcosa di pazzo. Mi aveva detto di dare fuoco tipo allo fiotto e fare casino. Ci becchiamo tutti quanti nel prossimo video. Grazie per stati. Anche questo oggi con me. Guave Gozzo. E se beccamo. Quando se beccamo. Bella per tutti. Ciao.